Gesù come l'ha donata al martire, che non l'ha fatto sentire mai solo, l'ha confortato anche nei tormenti più duri e più difficili da accettare umanamente, la morte, la croce, la sofferenza, ma in questo momento questa benedizione la estende con loro che domani ritorneranno nei loro luoghi, per lavoro, per svago, per divertimento, ma soprattutto per studio. Gloria al padre e al figlio Un applauso forte E viva San Vincenzo E viva San Vincenzo Per essere già in chiesa e accogliere San Vincenzo Ave Maria E viva San Vincenzo 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 Viva! 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 Se vogliamo continuare con questa preghiera a ringraziare il Signore per averci tornato. Viva! 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 evidenti, benedici e proteggi gli emigranti, benedici e di lui nel pensiero, e sorreggi la volontà delle vie di Dio, un fuo raggio, e ci guidi nella via, ed enti, pericoggiungersi la traduce della vita eterna, Amen. Sante Vincenzi, ora pro nobis, e viva Sante Vincenzi! Sante Vincenzi! Sante Vincenzi! Sante Vincenzi! Sante Vincenzi! Sante Vincenzi! Soprattutto con l'omaggio dei Fiori, mi raccomandati voi, mi avete voi raccomandato che rimangono lato! E io sto qua per controllare, ho fatto a capo grazia, ma non ho proprio bene. Rimangono lato, lo so. Perché domani c'è la Santa Messa, ricordate, ho una Santa Messa per celebrare con voi, poi me le vado pregate, finalmente, perché vado, ci pregono poco, perché sono troppo impegnati in tante altre cose. Quindi ricordate che di domani parlo, se mi cercate dopo domani, non mi preoccupate. Significa due delle giorni che le vado in preghiera, e poi ci vediamo tutti, credo lo sabato, perché c'è anche un battesimo a Campogrande. Sto parlando a tutti perché ci sono anche quelli di Campogrande, vero? Dall'inizio 8 e 30, c'è un c***o con voi! Mi venirete a Dio di modente, Padre, Figlio e Spirito Santo, in nome del Signore, andate in pace. Mi credo che vi hanno fatto una cosa, vi chiedo troppo, se alziamo con forza e decisione, e poi dà applausi insieme proprio con la spada. Volevo provare che ancora se avete tanta forza, che è molto successivo. Lo so, preparate, il contatto e... Come paremi suliously cambiato per quanto superi' d'ora? Quasi sono i kuponi, mi troviamo di amparizzare, vaga, non ti abbassi, vaga, non ti も' di amparizzare, ma te lo ley di amparizzare… 95 persone non 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 lo software, ma te lo rendite due anni saperolibili di amparizzare! Grazie. Grazie.